Siamo a buon punto, comincio a vedere un po' il risultato di quello che è, diciamo, il pensiero, il lavoro che ho in mente di realizzare per il carnavale di quest'anno. Sono appunto figure molto grottesche, il titolo della mascherata è Signore si nasce, poveri si diventa, e quindi c'è questa rappresentazione di anziani che diventano sempre più poveri nella loro esistenza. Partono da una regalità iniziale appena nati, come tutta l'umanità, e poi appunto, dalle tante difficoltà di questo mondo, cominciano sempre più a impoverirsi. Ecco, la mascherata ha questo concetto, e quindi vediamo queste figure molto grottesche, trattate in maniera veramente molto satiriche, molto particolari.